In diretta online, un po' di branded content digitale di Quoi Suo Show! In compagnia della nostra band, Quoi Suo Sound! Ora internet è come la tv, perciò ho deciso di trasmettere il mio show anche in streaming e quindi ricordatevi di cliccare sul pollicello in su per dirci, ovvero per dirmi, che voi adorate questo show, vero me? E ci sono anch'io! Sì, la nostra prima intervista online... Vengo meglio se mi metto così, così, così o così! Sarà da Villa dei Paperoni, con la nostra Gaia van der Quack! E allora, mi stavi raccontando quella cosa divertente che ti è successa oggi nella Sala delle Antichità Stregate? Scusa, ma dovresti proprio comprare una poltrona nuova! Mi stavi raccontando quello che ti è successo nella Sala delle Antichità Stregate? Non stavo niente, sono appena arrivata! No, 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 piano, intendevo prima dello show, quando decidevamo cosa dire nell'intervista! Oh, è vero! E tu mi hai detto di raccontare la battuta che hai fatto quando io ho sbagliato a etichettare un reperto e tu mi hai detto... Che non vedevo fare uno sbaglio così grossolano dalla volta che Zio Paperino ha imboccato in senso inverso la Scala Mobile! Divertente, vero? No, ti ho già detto che non è granché come battuta! Purtroppo il nostro tempo è finito! Ci scusiamo col signor Famedoro per averlo tagliato! Cosa?